La sede territoriale di Serra di Falco del Comitato Unisseno della Croce Rossa Italiana terrà una lezione informativa gratuita sulle manovre salvavita per gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia dei Plessi Falcone e Morvillo. La lezione verrà effettuata venerdì 19 gennaio alle 16 dall'istruttore infermiere Giuseppe Di Vanni, referente dell'Unità Territoriale della Croce Rossa Italiana di Serra di Falco, in collaborazione con la dirigente dell'Istituto Scolastico Anna Maria Nobile. Lo scopo della lezione sarà quello di rendere gli insegnanti capaci di intervenire con delle manovre specifiche nel caso si presentasse un'ostruzione durante i pasti nella mensa. L'iniziativa, si legge in una nota, rappresenta un ulteriore gesto di collaborazione proficua tra la CRI di Serra di Falco e la comunità locale, che verrà di sicuro seguito da innumerevoli altri progetti nei prossimi mesi.